Grazie, intanto io ho selezionato due casi e sarò molto rapida nel presentarli perché non vi voglio annoiare prima di tutto perché poi ognuno di noi si occupa di un'area della medicina e tendiamo ovviamente a avere molto interesse in quello di cui ci occupiamo personalmente a volte non ascoltiamo tanto il resto, però io vorrei votare due messaggi. Il primo è quello del fatto che i livelli di fosfato che noi anche come esperti della materia abbiamo trascurato per tanti anni sono importanti e magari voi che siete clinici vi può capitare qualche caso con ipofosfatemia noi siamo molto interessati a leggere questi casi perché vedrete cosa ci può essere dietro e l'altro quello che siamo riusciti a mettere insieme con Personal Genomics e poi dopo il professor Garagnani dell'Università di Bologna vi dirà meglio quello che loro fanno e quello che abbiamo fatto insieme nella messa a punto di pannelli diagnostici in campo genetico questo perché alcuni dei casi complessi possono essere malattie rare, molti di quelli che noi vediamo più complessi sono malattie rare e spesso ci manca la diagnosi genetica e la possibilità di individuare il gene proprio per questo con il gruppo del professor Garagnani abbiamo messo a punto dei pannelli che poi vi lascio qui anche dopo se qualcuno lo vuole vedere per capire quello che noi abbiamo fatto nel nostro settore ma che possono diventare utili in tutti i settori della medicina allora intanto il primo caso clinico questi sono tutti i pazienti miei, personali che ho visto negli anni mi capita di avere segnalati dei casi di patologie rare e inviati poi anche alla mia attenzione un po' da tutta Italia e questo è un caso di una malattia che è una forma paraneoplastica in cui l'ormone che viene prodotto dal tumore tumori che noi chiamiamo in questa malattia che si chiama proprio osteomalacia indotta dai tumori sono tumori che noi chiamiamo tumori strani in posti strani sono forme istologicamente che possono essere pericitomi, angiofibromi raramente sono tumori maligni, sono molto piccoli ma producono un ormone, uno degli ultimi ormoni scoperti senza altro l'ultimo nell'area del metabolismo minerale che si chiama Freibrofactor 23 abbreviato come FGF23 che è un ormone fosfaturico quindi è un ormone che ci fa eliminare fosfato a livello urinario in grande abbondanza e se questo ormone è prodotto in eccesso noi diventiamo iperfosfaturici e noi abbiamo sindromi come questa che è una sindrome non genetica ma acquisita perché è indotta infatti da un tumore quindi una persona nasce perfettamente sana e in mezzo del cammino della sua vita si trova ipofosfatemico e non sa bene perché lo è e il percorso di questi pazienti anche se noi come esperti li abbiamo ben ordinato l'algoritmo di diagnostico in realtà questi pazienti possono capitare a chiunque molto spesso vanno in campo ortopedico reumatologico semplicemente perché soffrono di dolori improvvisi e di incapacità proprio funzionale a livello muscolo scheletrico ma non sempre la diagnosi è così rapida per cui parlare di ipofosfatemia per noi è molto importante per porre l'attenzione su questo problema questo è un caso si chiama Carlo un avvocato che viene da me alcuni anni fa 55 anni che non ha nessuna storia familiare per fragilità ossea e peccato che questo uomo che nella sua vita non aveva avuto niente faceva il bodybuilder per attività diciamo amatoriale comincia ad avere tutta una serie di problemi con fratture multiple quando arrivò da me ormai aveva perso 13 cm di altezza per un bodybuilder è veramente incredibile non poteva fare più attività fisica e aveva avuto anche due fratture a livello femorale per cui ricordo che arrivò nella mia stanza con due bastoni accompagnato dal padre che naturalmente piangeva su questo figlio bellissimo che era diventato un po' deforme e soprattutto non riusciva più a funzionare io guardai soltanto l'incartamento che aveva in mano questo signore che ormai aveva peregrinato credo in 10 centri in Italia ma anche in centri specialistici per questo vi dico anche noi come specialisti la parte dell'ipofosfatemia è quella che proprio abbiamo trascurato di più e non aveva mai avuto una diagnosi fu inviato da me anche da un reumatologo del nord Italia che disse guardi vada dalla Brandi però io non credo per grande bravura ma semplicemente guardando le carte vedi che era ipofosfatemico e aveva un'ipofosfatemia importante con tutta un'altra serie di indicazioni che per noi erano importanti tipo il trasporto massimo dei fosfati che in questo uomo era naturalmente molto alterato vedete con una fosfatemia di 1,69 il fosfato urinario era ben oltre i valori che sono indicati di normalità che poi arrivano intorno ai mille per normalità di fosfaturia e aveva invece tutti gli altri parametri come vedete il paratormone che era aumentato aveva la fosfatasi alcalina ossea molto alta tutti i parametri di riassorbimento elevatissimi io di questo argomento mi sono sempre occupata quindi non è stato tanto difficile per me mettere insieme le cose il fatto che fosse esordito così all'improvviso che non ci fosse una storia genetica precedente e soprattutto che i livelli del calcitriolo che è la vitamina D attiva fossero in realtà molto bassi questo perché l'ormone FGF23 che in questo signore era molto elevato era infatti un inibitore della 1-alfa idrossilazione a livello renale della vitamina D che non si attiva quindi queste persone perdono fosfato e non hanno la vitamina D attiva per assorbirlo a livello intestinale quindi diventano osteomalacici e con una stomalacia che però è acuta e questo li porta veramente ad avere dei problemi fisici che se non viene risolto il problema possono andare in conto veramente a grandi difficoltà a una qualità di vita realmente inaccettabile che cosa cominciamo? perché quando hai individuato questi casi non è tanto difficile oggi fare la diagnosi perché sai quelle cose che devi dosare è difficile localizzare questi tumori e noi abbiamo tanti casi ancora in Italia li abbiamo proprio descritti quest'anno e pubblicato un lavoro di una multicentrica che abbiamo fatto proprio dei casi cosiddetti inoperabili semplicemente perché o il tumore è cresciuto troppo per esempio può crescere a livello centrale soprattutto nel pavimento del cranico e se cresce un po' troppo anche se non è maligno in realtà diventa inoperabile perché ormai è entrato un po' dappertutto quindi quelli sono i casi inoperabili perché non sono proprio operabili chirurgicamente poi ci sono i casi invece che sono quelli operabili però noi operabili perché non avrebbero nessuna controindicazione ma non abbiamo individuato il tumore e questi sono molto numerosi anche se oggi le tecniche che includono ovviamente le tecniche PET PET-CT ci aiutano molto in realtà a volte nemmeno in quelle condizioni non siamo in grado di individuare il tumore in questo caso noi riuscimmo in realtà a individuare il tumore a livello anche attraverso una cateterizzazione la facesti te poi questa te la ricordi? è un caso che te facesti e una cateterizzazione a livello venoso in cui andiamo a vedere il rapporto dei livelli di ormone fra il periferico quindi facciamo un prelievo a livello radiale e poi andiamo a vedere invece quello che succede in tutte le varie sedi da cui può avvenire il tumore per esempio noi abbiamo casi in cui sappiamo benissimo che l'ormone viene dal cranio ma ancora non siamo stati in grado con tutte le tecniche che abbiamo a disposizione di individuarlo quindi noi procediamo finché non lo individuiamo e in questo caso noi vedemmo che infatti veniva da una dei due femori perché poi fu localizzato a livello radiologico e poi anche a livello di cateterizzazione venosa e il chirurgo quando è andato a operare è andato nel trocantere femorale e ha operato il tumore quindi questo uomo è una persona che oggi vive normalmente è ritornato la prima cosa che mi mandò dopo qualche mese che avevamo fatto l'intervento chirurgico fu la sua foto in motocicleta perché era ritornato in moto perché era anche un centauro quindi è tornato a sciare fa una vita normale lo dobbiamo sempre monitorare negli anni perché alcuni di questi tumori possono recidivare anche se l'intervento chirurgico era stato fatto molto bene era stato veramente tolto tutto il tumore quindi devo dire che per noi questo è un caso che presentiamo casi come questi soprattutto nell'area della nostra espertise quella dei quelli che vengono definiti bond doctors nel mondo che si occupano di metabolismo osseo e che devono fare attenzione più attenzione a questi casi poi vi ho fatto sempre insieme a questo un altro caso che è praticamente una forma invece congenita per farvi capire cosa succede nelle malattie genetiche in questo caso che viene chiamata sì certo queste persone possono sviluppare un iperparatirodismo di tipo secondario causato dall'ipofosfatemia se dura molto tempo l'iperparatirodismo può dare anche ipercalciuria e allora se te hai un'iperfosfaturia un ipercalciuria puoi avere anche una calcinosi renale sì noi cerchiamo oggi di vedere di fare le diagnosi un pochino prima che queste persone sviluppino queste forme ma l'ipofosfatemia ti induce un iperparatirodismo di tipo secondario in questo caso invece noi abbiamo una forma che è chiamata sempre osteomalacia anche questa causata da un eccesso di questo ormone è legata al cromosoma X perché è causata dalla mutazione di un gene che è un gene che controlla un enzima che controlla negativamente la produzione di FGF23 e voglio dire questo ormone viene prodotto dagli osteociti è un ormone che è prodotto dall'osso FGF23 e dentro gli osteociti c'è questo enzima che se perda la sua funzione come accade nella malattia XLH che sta per X-linked hypofosfatimia in questo caso viene prodotto troppo di questo ormone quindi ho la stessa situazione che ho nella forma acquisita che vi ho fatto vedere precedentemente ma è una forma congenita in questo caso noi abbiamo nei bambini un rachitismo vero e proprio sono nella loro fase di crescita negli adulti rimarrà il rachitismo che c'era nei bambini con ridotte funzionalità a livello muscolare perché il fosfato è importante anche per la funzione del muscolo e hanno soprattutto gli adulti forme di artrosi molto importanti perché se il difetto rachitico non viene corretto nelle età giuste quindi non vengono riallinate le ginocchia non vengono fatti degli interventi di osteotemia importante che questi bambini purtroppo devono subire l'adulto avrà un'artrosi generalizzata importantissima con entesopatie veramente sono persone che sono abituati alla sofferenza soffrono meno del problema muscolare rispetto agli adulti semplicemente perché tutte le forme acquisite che ci succedono durante la vita in cui noi stiamo bene all'improvviso ci succede qualcosa di sconvolgente come il signore che vi ho fatto vedere prima ci trovano meno tolleranti a quel deficit o a quell'eccesso quando invece noi nasciamo con un deficit e con un eccesso il nostro organismo in qualche maniera si adatta meglio ci abituiamo a un certo malessere in questo caso infatti non c'è una forma acuta loro sono malati cronici che in qualche modo si correggono e come nella forma precedente noi possiamo trattare questi malati con il fosfato e ovviamente dobbiamo dare il calcitriolo che è l'ormone vitamina D attivo e questa era la terapia che noi avevamo a disposizione fino ad oggi in questo caso viene da me è una viene da me una donna che ha una lei viene da me già molto molto secondo me con problemi seri dal punto di vista scheletrico perché aveva problemi di ginocchio varo importante un'artrosi importante e la colonna aveva sofferto nella sua vita di un po' di tutto perché era una donna che era arrivata a 55 anni e nessuno aveva fatto la diagnosi della malattia che lei aveva questi sono gli adulti che ci capita di vedere quelli cui non è stata diagnosticata prima la malattia genetica in questo caso lei va incontro nella gravidanza e è il neonato che viene riconosciuto come XLH a lui viene fatta la diagnosi genetica e si vede che la mamma è portatrice del difetto genetico viene trovata la mutazione viene confermata nella madre e naturalmente a quel punto noi abbiamo iniziato un percorso anche in questo caso vedete i livelli di fosfato di questa donna erano bassi aveva avuto di tutto nella sua vita non si sa come mai nessuno aveva pensato che lei fino al momento della gravidanza non avesse la malattia e anche quando venne da me lei parlava del figlio non parlava di se stessa come se lei non avesse problemi nonostante nella sua vita ci fossero state fratture problemi di artrosi gravissimo fosfato di questi livelli cioè non veniva riconosciuta la malattia e queste sono le cose che noi oggi vogliamo evitare questi pazienti oggi vengono seguiti noi facciamo una diagnosi genetica fatta la diagnosi genetica facciamo un trattamento farmacologico che nel caso fino a quando non abbiamo avuto a disposizione quello che vi dirò ora noi in realtà trattavamo questi pazienti con il fosfato e con il calcitriolo sempre difficile da trattare perché se noi trattiamo con troppo fosfato in realtà abbiamo problemi anche di reazione a livello della funzionalità e del metabolismo del calcio quindi dobbiamo sempre molto stare molto attenti perché se nel sangue il prodotto calcio fosforico aumenta io ho precipitazione di fosfato tricalcico a livello dei tessuti molli che è quello che devo evitare di avere quindi sono pazienti difficili da trattare tant'è che fin da bambini che sono bambini vengono trattati per migliorare l'aspetto del rachitismo ma da adulti tendono anche a sospendere le terapie e hanno tutte le conseguenze dell'ipofossatemia in questo caso quello che noi dobbiamo imparare appunto è cercare di riconoscere prima queste patologie anche perché oggi sia per la forma di tumor induced osteomalesia che nella forma di XLH noi abbiamo un anticorpo monoclonale che blocca FGF23 quindi la terapia oggi è una terapia biologica con un anticorpo che noi possiamo utilizzare per bloccare l'effetto dell'ormone quindi è una specie di cattura dell'ormone per non farlo funzionare così tanto come funziona e allora proprio per questo per questi casi che sono così complessi oggi vi ho fatto vedere casi paradigmatici ma molti di questi sono casi invece molto difficili da diagnosticare si arriva con più difficoltà non tutti sono il caso perfetto che noi raccontiamo oggi sono casi più complicati e allora noi dobbiamo usare la diagnosi genetica perché la diagnosi genetica per noi è fondamentale perché riconoscere un gene è importantissimo e da qui la collaborazione con il gruppo di Personal Genomics che poi ci dirà meglio il professor Garagnani che a noi permette oggi di studiare dei pannelli genici che ci fanno riconoscere malattie e geni soprattutto che finora non avevamo riconosciuto siamo così riusciti nell'arco di questi ultimi mesi a riconoscere in casi negativi che noi sapevamo essere congeniti mutazioni che non sapevamo proprio potessero essere possibili da riconoscere quindi volevo chiamare Paolo qui proprio per dirvi quello che abbiamo fatto noi e secondo me quello che si può applicare in qualsiasi disciplina quando c'è necessità di una diagnosi genetica vieni qua intanto ringrazio professoressa Brandi che è sempre troppo buona con noi perché ma l'esperienza di personal genomics nasce nel nel 2011 e è uno spin off dell'università di Bologna e di Verona e noi diciamo l'ispirazione è stata quella di capire che nell'ambito della genetica si era incontro a una rivoluzione dal punto di vista tecnologico vale a dire che la produzione del dato genetico stava entrando in una dimensione completamente nuova quella che io da un punto di vista così metaforico chiamo la rivoluzione industriale del dato genetico per cui il dato genetico è passato da un dato estremamente specialistico estremamente costoso limitante per generazione del dato e analisi a un dato consumer tant'è che ormai penso che sapete tutti che sia facile ottenere prodotti di genomica personalizzata anche su Amazon su questi mezzi di vendita comune la nostra aspirazione però era di cercare di lavorare a fianco alla clinica e anche in modo un pochino originale quindi andando fuori da quelli che sono i classici schemi della genetica medica perché di fatto quello che noi sappiamo sono un volgarissimo biologo lo prometto ogni fenotipo clinico ha tutto uno spettro diciamo sporadico ma poi ha anche tutta una serie di caratterizzazioni che molto spesso sono legate a dei fattori genetici questi fattori genetici possono essere più o meno comuni e però è sempre più facile utilizzarli e penso che sia sempre più importante cercare di integrarli nella pratica clinica per supportare la diagnosi perché e nei casi migliori dove la clinica e il professionista lo consente anche di guidare proprio il percorso poi terapeutico successivo non tutti gli ambiti permettono di arrivare all'interazione tra la diagnosi clinica e la pratica come quello della professoressa Brandi però in realtà è tutta una strada che deve essere pavimentata è sempre più sviluppata io credo che uno dei problemi grossi che ci sia nell'uso del dato genetico è che c'è una forma di preconcetto per cui o il dato genetico è perfettamente interpretabile o se no non vale niente quando noi sappiamo voi insegnate voi i medici più che altro e che in medicina in realtà si va sempre per sfumature per indizi come si stavate discutendo voi prima il caso quindi il dato genetico in alcuni casi è derimente come ha fatto vedere la professoressa però in altri casi dà dei suggerimenti che possono essere utili o meno a seconda delle circostanze il tema è proprio secondo me capire che bisogna fare la ginnastica di inserirlo all'interno del meccanismo anche perché oggettivamente adesso i costi e i tempi di utilizzo sono oggettivamente cambiati radicalmente laddove chi offre servizi ovviamente ha fatto poi lo sforzo per fare in modo che questo diventi compatibile ed è un po' il mio ruolo è stato proprio questo dentro Personal Genomics cioè quello di capire tempi e modi perché oggettivamente diventi fruibile perché se uno fa un'analisi e poi dopo gli arriva il risultato dopo due anni si era anche dimenticato di aver fatto il prelievo quindi c'è ancora molto lavoro da fare perché non è tutto proprio integrato però sono tecnologie che stanno diventando possono diventare pervasive prima avete discusso quel caso della fista l'avete parlato anche di possibili ruoli di microbi patogeni anche in questo senso si può agire proprio anche a livello della microbiologia le tecnologie di sequenziamento possono offrire strumenti diagnostici che non devono per forza sostituire quelli abituali ma che li possono quantomeno in una prima parte integrare perché ad esempio è un metodo estremamente potente nel riuscire a identificare tutte le tracce di DNA che sono un determinato mezzo a prescindere dal fatto che ad esempio il patogeno sia favorevole o meno a vivere in cultura quindi le culture selettive insomma sappiamo tutti che in tutte le aree ci sono dei pregi e dei limiti quindi la genomica diciamo che quello che io ho potuto toccare con mano in questi vent'anni è diventato un oggetto veramente di molto 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 pratico e quando è accompagnato da insomma chiaramente non stiamo parlando di un professionista però che è in grado di 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 integrare questo questo percorso i frutti poi dopo sono evidenti vi ringrazio grazie 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 grazie